stabilità del 2014 dovevate previsto in analogia a questo programma un piano triennale nazionale per le aree urbane degradate. Ma l'anno scorso, diciamo, avete votato basso, erano 200 milioni circa su scala nazionale. Quest'anno avete pensato di integrare 75 milioni previsti per il 2016 di ulteriori 500 milioni, ma questa volta solo per le aree metropolitane e per i capoluoghi di provincia, come Roma, Milano, Bologna, Napoli, ecc. Casualmente tutte città che a breve andranno al voto. Ma al di là delle valutazioni politiche che mi riservo di fare in fase di replica, questi soldi i comuni li aspettano. Cosa che tempi dà il Governo per l'emanazione dei decreti e di tutte le inadempienze previste nella legge di stabilità? Ecco soprattutto anche come è andato il primo triennio della scorsa legge di stabilità dal 2014. Grazie. Grazie a lei. Chiedo scusa. Il sottosegretario Vito De Filippo ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Onorevole Mannino, riassumo la risposta preparata dalla Presidenza del Consiglio, che abbiamo ovviamente letto e valutato, in riscontro alla sua interpellanza, si rappresenta quanto segue. L'onorevole Mannino chiede di sapere, nello specifico, entro quali tempi il Presidente del Consiglio dei Ministri intenda emanare il bando previsto al comma 975 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015 e se non ritenga opportuno dilazionare i tempi previsti per la presentazione delle domande che, data la complessità degli interventi proponibili, li renderebbero di scarsa qualità e determinerebbero anche una scarsa partecipazione. Questa è la domanda. In proposito, si segnala, in primo luogo, che il bando considerato fa seguito ad analoga iniziativa pure richiamata nell'interpellanza in oggetto e prevista la comma 431 della legge 190 del 2014 che ha descritto l'onorevole Mannino, la cui istruttoria, alla fine dell'anno passato, ha consentito al Governo di individuare, grazie ad un'intensa attività di raccordo con tutte le amministrazioni coinvolte, sia quelle centrali che quelle locali, gli aspetti di maggior rilievo tecnico da tenere presenti nell'avvio del nuovo intervento e le migliori scelte attuative da adottare per evitare di incorrere reiteratamente nelle problematiche che sono emerse nella fase iniziale di realizzazione del primo programma di riqualificazione urbana, in relazione al quale sono pervenute ben 865 proposte progettuali per mezzo di oltre 2.500 mail che saranno a breve esaminate nell'ambio comitato di valutazione costituitosi secondo quanto previsto dalla norma di riferimento a seguito dell'ultima disegnazione che è pervenuta il 24 febbraio scorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della nota di richiesta a firma del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2016. Pertanto il testo del nuovo bando, la cui redazione segnala la Presidenza del Consiglio, concertata con tutte le amministrazioni competenti e ormai concluse e manca esclusivamente della necessaria comunicazione alla conferenza Stato-Regioni, prevede modalità di redazione e di esame dei progetti ammissibili a finanziamento notevolmente semplificate rispetto alla precedente esperienza, nonché ambiti di intervento più ampi e meglio specificati, venendo incontro alle principali esigenze di miglioramento procedurale che sono state espresse nel 2015 dalla platea dei possibili beneficiari. Ciò consentirà senza dubbio di facilitare la presentazione delle domande da parte degli interessati e di garantire un più elevato livello qualitativo degli interventi proposti, oltre che di ridurre considerevolmente i tempi necessari alla loro valutazione. Per quanto riguarda i termini, segnala ancora una volta la Presidenza del Consiglio, previsti originariamente dalla norma di riferimento che nel silenzio di quest'ultimo sono da considerarsi sicuramente di carattere ordinatorio, in quanto riferite all'emanazione di atti favorevoli per i potenziali destinatari, si provvederà ad adeguare le scadenze inizialmente definite al fine di assicurare la massima e più qualificata partecipazione ad una iniziativa di così grande rilievo per la rigenerazione delle periferie urbane degradate del Paese. Queste sono le risposte che appaiono non puntuali perché sono in corso di elaborazione probabilmente i documenti che mi sono state trasmesse. Grazie. Grazie. L'onorevole Mannina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Sinceramente, Presidente, non posso dichiararmi minimamente soddisfatta, sia perché la risposta del Governo, per quel che è stato detto, riguarda quanto previsto dalla precedente legge di stabilità. Le 865 proposte di progetti sono riferiti alla legge di stabilità dell'anno scorso, che riguardava un programma triennale su scala nazionale delle aree degradate. Quello che noi abbiamo approvato e che voi avete proposto con la legge di stabilità è invece un piano annuale di 500 milioni, quindi molto più pesante dal punto di vista economico per l'anno 2016, con tempi strettissimi e riguarda solo le città, capoluogo di provincia e le aree metropolitane. Quindi, anche se in conseguenza a quello che è stato fatto o quello che è raggiunto con la legge di stabilità precedente,